Tender Caccia nell'Assemblea Nazionale tenutosi il 2 di dicembre scorso ha presentato i risultati del terzo bilancio sociale dell'associazione. Si tratta di uno studio fidato ad una società persa e indipendente che raccoglie le informazioni delle attività svolte dalla federazione ad ogni livello nazionale regionale provinciale comunale al fine di valutare le ricadute positive sulla collettività. Non sono valutati i servizi resi dall'associazione dalle sezioni ai soci si tratta della ricaduta sociale dell'impegno dei soci stessi e delle sezioni per le attività svolte sul territorio, per l'iniziativa ad esempio di volontariato, per le effettive iniziative di ripristino ambientale come per esempio quelle di risanamento e di pulizia delle aree naturali, come per la sorveglianza sanitaria che viene effettuata nel campo della PSA, della Western Isle, della Viaria, per le iniziative di formazione e per la difesa della cultura anche attraverso le iniziative e soprattutto le iniziative con le scuole, per la partecipazione ai progetti live, per tutti i progetti di ricerca scientifica nel settore faunistico e ambientale, per l'educazione ambientale e per la gestione faunistica. I dati raccolti guardate non riguardano ancora il 100% delle sezioni di Federcaccia e il sistema si sta ancora affinando perché solo man mano ci stiamo rendendo conto che quello che per noi è normale e viene fatto anche con semplicità dalle sezioni comunali più piccole, in realtà ha delle ricadute importantissime, positive a livello sociale. Figuratevi che solo nel 2021, ancora con una raccolta parziale dei dati, di fatto si stima che sia stato generato un impatto sociale positivo, è stato valutato dalla società terza, in 1.300.000 euro. Questa ricaduta ovviamente si somma in realtà poi all'indotto economico generato direttamente dal mondo venatorio e questo dimostra che la nostra passione, già al netto della semplice diretta attività venatoria che genera reddito per molti settori come l'abbigliamento, il mantenimento dei cani, le armi e le munizioni ovviamente e il mantenimento dei richiami. Già solo la nostra passione, dicevo, ha un impatto positivo per la collettività a diversi livelli. Parallelamente in assemblea si è annunciato che Federcaccia si è rivolta ad una società di primaria importanza nella comunicazione, specialisti nella comunicazione e forse finalmente i dati raccolti potranno essere presentati nel migliore dei modi per spiegare in soldoni l'importanza e il valore dei cacciatori anche nella società moderna.